utilizza bene il corpo di riflesso ci sa fare qualità da mettere in mostra per quanto riguarda maximiano ma spazio alle immagini eccolo lì appunto seguire bene la manovra avversario che prova a prendere la mira maximiano che con il corpo dice da qui insomma per il momento non si passa ma come sempre come sempre non è tuttoro quello che luccica perché analisi particolare quella di oggi perché parliamo di un giocatore che osservo e conosco da una vita dato il mio lavoro su spagna e portogallo ma anche perché è un giocatore che ha giocato nell'ultima stagione nella squadra della mia città ebbene sì maximiano ex portiere ormai del granada ragazzi l'ho visto spesso e volentieri vi dirò che tipo di giocatore è quali sono le sue qualità ovviamente in chiave positiva dove dovrebbe invece migliorare ragazzi oggi analisi di un portiere ruolo molto delicato da osservare ma prima di iniziare come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre passate sui miscouting per quanto riguarda tutti gli altri social il sito internet per i corsi di match analysis e scouting se volete diventare match analyst osservatori e magari imparare ad osservare anche i portieri data analyst chi più ne ha più ne metta abbiamo gli ultimi posti per i corsi del prossimo mese trovate tutte le info qui in basso in descrizione lo stesso per quanto riguarda facebook twitter twitch instagram il gruppo telegram ma 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 parliamo oggi con questa barba incolta post covid appunto del caro maximiano ragazzi è un portiere che ripeto conosco molto bene per una serie di motivi motivi elencati durante l'apertura del video un portiere che a me piace appena il granada è retrocesso in seconda divisione ho detto ora sul portiere si fiondano un po tutti e ragazzi partiamo con le statistiche come sempre per vedere un po che tipo di giocatore stiamo per analizzare allora giocatore portoghese proveniente prima del granada dallo sporting lisbona è un classe 99 a 23 anni quindi giovane vi ricordo che i portieri fioriscono addirittura verso i 25 26 27 va più maturano e più diventano forti alcuni portieri quindi piede destro un piede educato che analizzeremo successivamente attraverso la hit map la mappa di calore qui in basso vediamo che non è un portiere che tende ad essere lì fisso tra i pali ma segue abbastanza il gioco alzandosi anche un minimo non è il nuovo noier però come potete vedere non rimane lì piantato tra i pali andando oltre vediamo un po quali sono le statistiche stagionali ha giocato 35 partite ragazzi inamovibile il ruolo di titolare per quanto riguarda quella che è stata la realtà del granada clean sheets non ha subito il gol durante otto partite ragazzi un dato positivo se consideriamo la difesa problematica che ha avuto il granada insomma durante otto partite il ragazzone ha mantenuto la porta inviolata un buon numero per quanto riguarda i gol subiti ne ha subiti 55 ripeto il resto della squadra non ha aiutato per quanto riguarda questa statistica 5 su rigore statistica sui rigori che vediamo immediatamente è stato chiamato in causa 7 volte a contrastare tiri dagli 11 metri su 7 rigori contro ne ha parati 2 una percentuale di salvataggi pari al 29 per cento statistica niente male errori da gol 6 ma ne parleremo successivamente nel dettaglio per quanto riguarda le medie per partite gol subiti uno e mezzo circa per partita tiri respinti 3.8 super salvataggi parate prettamente di riflesso 1,46 in media per partita per quanto riguarda i passaggi 31 passaggi in media per partita un portiere partecipe occhio perché potrebbe essere un fattore importante per quanto riguarda la tattica lo stile di gioco di mister sarri per quanto riguarda i lanci lunghi 19 in media per partita con una percentuale di successo pari al 73 per cento vi dico ragazzi che un altro problema del granada durante la stagione passata di testa lì davanti ragazzi non la prendevano neanche se se ne la mettevi con le mani proprio sulla testa stessa infatti la percentuale per quanto riguarda i lanci lunghi riusciti in una squadra più abile nel gioco aereo insomma sarebbe potuta essere una percentuale più alta rispetto a quanto appena detto ma per scendere nel dettaglio ragazzi come sempre lavagna tattica per capire meglio di che tipo di giocatore di che tipo di portiere stiamo parlando parliamo appunto di quelle che sono le qualità palla al piede un portiere che è stato spesso chiamato in causa durante la stagione a giocare con i piedi uno per i rinvii gli avversari tiravano tanto contro il granada spesso fuori quindi doveva rinviare dal fondo abbastanza di frequente durante le partite ma veniva chiamato in causa spesso anche dai difensori ripeto piede educato baricentro relativamente alto quando doveva impostare l'azione lì davanti ragazzi di testa ripeto scarsi ma più di un passaggio come dicono le statistiche stesse è andato a buon fine vi faccio vedere un esempio di quanto appena citato lo vedete lì con la palla tra i piedi alzare la testa piede destro educato verso l'esterno palla raccolta quasi miracolosamente dal reparto avanzato del granada quindi abbastanza affidabile per quanto riguarda l'impostazione della manovra fattore importante secondo me in una squadra allenata da sarri anche sul corto ragazzi è un portiere che ci sa fare non è pirlo con i guanti sicuramente ma ripeto un certo tipo di educazione per quanto riguarda i piedi in fase di possesso andando oltre però dobbiamo vedere come tende a parare questo portiere è un portiere attento a me piace perché è nel gioco è nel vivo del gioco segue la palla segue gli avversari segue la manovra un portiere che nonostante la stazza un metro e novanta per 82 kg riesce ad essere abbastanza presente per quanto riguarda la difesa della porta occupa bene gli spazi utilizza bene il corpo di riflesso ci sa fare qualità da mettere in mostra per quanto riguarda maximiano ma spazio alle immagini eccolo lì appunto seguire bene la manovra avversario che prova a prendere la mira maximiano che con il corpo dice da qui insomma per il momento non si passa è un tipo di parata che maximiano tende ad effettuare spesso proprio grazie a questa sua attenzione per quanto riguarda lo sviluppo della manovra e ovviamente è il tutto associato a dei riflessi secondo me di qualità piccola parentesi per quanto riguarda l'estensione in tuffo del portiere qui lo vediamo proprio salvare uno dei due rigori parati su 7 in stagione è difficile spesso da superare proprio grazie alla grande quantità di spazio nella porta che riesce ad occupare grazie al suo fisico a una buona spinta laterale ragazzi in mano convinta mano sicura che spesso prova anche a bloccare la palla e lo fa con successo anche per quanto riguarda lo spazio della porta occupato portiere che secondo me ha delle qualità ma come sempre come sempre non è tuttoro quello che luccica perché se in precedenza abbiamo visto sei errori da gol totalizzati in stagione questi sei errori da gol sono tutti da imputare a tiri da fuori area occhio su questi sei errori da gol c'è anche un caso di palla deviata insomma maximiano in quel caso avrebbe potuto far poco però particolare questa attitudine nel subire gol per quanto riguarda i tiri da fuori a volte fa fatica a leggere la traiettoria della palla non so se è una questione di posizionamento non troppo corretto per quanto riguarda appunto i tiri da fuori il fatto sta che l'estensione come detto in precedenza c'è il salto laterale c'è però questo fondamentale tecnico sicuramente è da migliorare come in questo caso palla rasoterra a fil di palo appunto da fuoriare a gol subito vi faccio vedere anche questa occasione dove vediamo l'avversario caricare questo destro vedete che non si tuffa con particolare ritardo la palla si è angolata però ragazzi secondo me se dovesse migliorare questa attitudine negativa che ha per quanto riguarda l'andare a subire gol con tiri da fuori potrebbe essere un portiere al limite del completo sicuramente è giovane a tempo per migliorare con la scuola di allenatori di portieri italiana sicuramente potrà fare il salto definitivo di qualità in italia però questa attitudine è stata relativamente pesante per quanto riguarda i gol subiti però abbiamo parlato di un portiere fisico attento con riflessi bravo per quanto riguarda il salto laterale bravo in estensione bravo palla al piede ragazzi di qualità ce ne sono diverse ma quello che voglio sapere a questo punto del video come sempre sono le vostre opinioni mi raccomando qui in basso nei commenti ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate l'analisi di oggi finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone e dal prossimo appuntamento bravo bravo poi dal vivo fa proprio un bel effetto dal punto di vista proprio dell'esplosività speriamo che in italia possa completarsi ma mettiamola così